Siamo molto felici per questa vittoria. Il primo gol è arrivato proprio in chiusura, classica zona Cesarini, poi con Zapata, poi Pasali ci ha chiuso definitivamente la partita. Vedevate un po' lo spettro dei supplementari? Un po' sì, sinceramente. Io da dietro vedevo che abbiamo avuto qualche occasione, ho detto no dai, speriamo bene. Alla fine quando ho visto che la palla è entrata di Zapata sono stato molto felice tutti, è stato un grande sollievo, ci tenevamo anche a vincere subito la partita. Perché poi vai supplementari, subentra la stanchezza, può sempre capitare di tutto. Quindi siamo molto felici, sono felice anche per Pasali ci ha segnato, quindi bene così. Felice anche per Pierluigi Collini perché chiamato in causa ha risposto presente. Sì, quello è il mio dovere, sono felice di aver fatto il mio e soprattutto abbiamo mantenuto la rete inviolata. Poi c'era magari anche la difficoltà di ritornare in campo dopo due settimane di stop, insomma superata anche questa. Beh sì, diciamo che ci siamo allenati subito molto forti, il mister non è che ci ha partito piano, quindi eravamo pronti. No, penso che su questo punto di vista nessuno avesse dubbi e noi non ce li avevamo e quindi siamo felici. Adesso testa il Prusinone, altra trasferta, inizia il girone di ritorno. Sì, beh adesso inizia il ritorno alla Serie A, quindi sappiamo che ci spetta un girone di ritorno molto importante e impegnativo. Sappiamo quello che vogliamo e quindi siamo tutti determinati per fare una grande seconda parte di stagione. Prusinone, poi Roma, poi la Juventus a fine mese in Coppa Italia, nei quarti. Sì, ancora la Juve e cercheremo anche stavolta di fare un'impresa. È una partita secca, giusto no? Partita secca, quindi ci siamo in casa nostra con i nostri tifosi e sicuramente sarà una bella battaglia.